Le saldature venivano fatte prima, veniva messo sotto un pezzo di rame, poi pian pianino è stato messo dentro nel contenitore, cioè dentro al particolare che saldava veniva messo dentro dell'argon, soffiato dentro, una volta che l'argon ha buttato fuori l'aria si crea un campo protetto dove la saldatura anche all'interno rimane bianca come di fuori, perché se andiamo a vedere in alcuni casi, poi in quella gabina lì, noi facevamo anche la saldatura del castello motore del 180, il castello motore del 180 è completamente in titanio, avevamo adattato una con l'alce, avevamo adattato una saldatrice che era una pinza, praticamente erano due cuffie con una pinza dentro rotativa dove aveva un tunsteno dove tu la chiudevi, dentro veniva messo argon, veniva messa sopra al tubo che doveva saldare con il raccordo del motore, veniva saldato, lei faceva la saldatura, c'era una macchina dove impostavi un programma, veniva saldata con argon dentro e argon fuori, tutto lì protetto perché il titanio è una saldatura che è molto difficoltosa, se viene imbrunita, cioè la saldatura del titanio deve essere tutta perfettamente bianca, se appena appena viene imbrunita con un blu non è più passabile, non è più collaudabile, cioè deve essere scartato, perché praticamente il titanio viene bruciato e non è più buono, allora con questo guscio, con questi due gusce, questa macchina con un programma, noi saldavamo il castello motore del 180 che vola ancora adesso. Questo anche per gli altri tipi di saldatura, non è che si faceva saldature dei particolari del Viper, saldature particolari del T55, T53, poi ultimamente ancora io prima che andassi in pensione saldevamo anche il Gem, il Gem era un motore di un elicottero, diciamo che era un Ferrari, cioè un motore di un, la T55 aveva un diametro così, il Gem aveva un diametro che era grosso così, cioè era molto più compresso come motore e noi saldavamo tutta questa roba qua. Diciamo che la Piaggio non era tanto conosciuta in Italia quanto come era conosciuta nel mondo, la Piaggio era una grandissima ditta, riconosciuta più che altro nel mondo che nell'Italia, lavorava tanto per altre ditte, parlando della Laicomi, parlando della, cioè la ditta che ha fatto, che ha dato un lavoro alla Piaggio, è stato quel progetto lì del G79, della Laicomi americana, della Rolls Royce, cioè parliamo di ditte che abbiamo lavorato per degli anni, che sono venute da noi a imparare, cioè sono venuti operai suoi da noi a imparare come facevamo a saldare, come facevamo a collaudare, come facevamo a montare i motori e questo devo dire che per noi nel nostro piccolo è stata una grandissima soddisfazione. Noi lavoravamo per loro, per loro loro, quando noi davamo il nostro prodotto, il nostro prodotto a loro, non sapevamo neanche come facevamo a farlo, i fatti sono venuti a imparare da noi come farlo. Siamo andati in Sudafrica a insegnare, a Johannesburg, siamo andati in Sudafrica, cioè sono andati rappresentanti di operai della Piaggio, sono andati in Sudafrica a insegnare una ditta della Rolls Royce, penso che fosse stata quella la giù, se non sbaglio, a fare il Viper, sono andati in Sudafrica a lavorare la giù, gente che è stata giù parecchi anni anche, a lavorare la giù per la Piaggio, a insegnare come fare i motori, cioè su licenza noi lavoravamo e noi non sapevamo neanche fare i motori, facevamo noi, in che dicevano che noi eravamo i pelandrui, noi eravamo i pelandrui, però noi a un bel momento avevamo anche delle responsabilità, tutti avevamo le responsabilità perché chi è un tornatore, chi è un collaudatore, chi è uno che guardava la qualità, io come saldatore certe volte saldevamo sopra dei, mi ricordo sempre il quarto stato, un particolare, non voglio dire qual è, finito, finito, costava 70 milioni, noi andavamo a dare due punti su di una boccolina, era l'ultimo lavoro, costava 70 milioni, se io davo una fiammata da qualche parte nel fare quel lavoro lì, era la mia responsabilità, io ero responsabile di quello che facevo in quel momento, se ammazzavo un pezzo così, quando si sbagliava diceva, ma sono in tucco, potevo uscire dalla finestra, neanche più passare dalla portineria, facevo prima, però io posso dire come tutti noi possiamo dire che siamo stati orgogliosi della piazza di finale.